Nodo importante da sciogliere è quello dell'alta velocità tra Battipaia e Romagnano al Monte. Come più volte detto su questa emittente, la rete si estenderà tra i comuni di Battipaia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Palomonte, Buccino e per l'appunto Romagnano al Monte. Il via libera da parte del Ministero dei Trasporti ed anche il parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è arrivato. Sembrerebbe dunque che tutto sia pronto e che si possa procedere quanto prima ai lavori, tant'è che Ferrovia dello Stato sarebbe intenzionata ad appaltare il lotto al più presto. Sulla costruenda rete ferrata c'è però un problema. Si tratta del sindaco di Eboli, Mario Conte, che ha da sempre espresso il proprio parere negativo al progetto per una serie di motivazioni che vanno dal rischio idrogeologico al rischio ambientale, fino ad arrivare alla ricaduta fisica sul territorio ebolitano, il più interessato dalla tratta ed oltre il più colpito dai lavori. Conte non si ferma e ha presentato ricorso al TAR contro tale decisione. Il dibattimento si terrà al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Impugneremo dinanzi al TAR anche la decisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, argomenta Conte, e continueremo a sostenere le nostre buone ragioni in ogni sede, sempre al fianco dei cittadini impattati dal tracciato. Il Consiglio Comunale, che ringrazio per l'importante lavoro svolto fino ad oggi, sarà protagonista anche di questa nuova fase. Parole che non lasciano dubbi. Il primo cittadino ebolitano promette battaglia, una promessa che sicuramente verrà mantenuta. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici